Devo dire che è stato un approccio per me nuovo, nonostante oramai abbia qualche decennio di esperienza alle spalle, sia lavorando con enti pubblici, sia lavorando con realtà private. Mi è piaciuto molto l'approccio che è stato portato dal Comune di Reggio per questa problematica. Devo dire che è stato particolarmente stimolante la cosa e secondo me, nel mio piccolo giudizio, posso dire che sono uscite cose molto interessanti che meritano di essere rapidamente approfondite per arrivare a un'ottima soluzione del problema.